La faccenda delle serie. Allora, le serie sono una cosa epocale, perché io, non so, non penso di essere l'unico, però leggo poco, soprattutto leggo poco di volatile, di attualità, quindi a volte probabilmente dico delle cose che ormai sono ovvie per tutti, però noi avevamo il romanzo. Il romanzo era la narrazione, cioè era quello che tu citavi da Ciamaraini, ma anche Umberto Eco per l'appunto ritorna. Insomma, quando si cerca di promuovere la scrittura si dice sempre quella frase di Eco, chi legge vive infinite vite, mentre chi non legge vive solo la sua, quindi leggete che ve conviene. Allora, i ritmi della vita di oggi, e non solo i ritmi, ma il rapporto fra povertà semiotica e ricchezza semiotica, cioè semiotico intendendo come meccanismi di significazione, di trasferimento di significati. Quando sono venuti gli audiovisivi, noi ci siamo trovati con, nelle mani, una cosa fantastica, cioè tu, nello stesso tempo, puoi fornire a uno, non solo le parole, che sono un esile filo che gli dà poi da costruire lui tutto quanto, le immagini, i suoni, le sensazioni. Siamo diventati capaci di, è la banda larga, cioè nella stessa unità di tempo, invece di forniregli questo esile filo che sono le parole, noi possiamo mandare a una persona tutto quanto. Ancora non siamo agli odori e ai colpi, però ci sono delle sale in cui si cerca di fare anche questo, ma sicuramente l'audio-video passa. Allora, perché il film vince sul romanzo, storicamente? Cioè a un certo punto la forma di arte più vitale, più influente, quella più decisiva, è stata per lungo tempo il cinema. Perché io, nello stesso tempo, ti do molto di più, è chiaro che tu tendi a orientarti lì. Insomma, se io ti do dei crackers, oppure una meravigliosa pastiera, oppure le lasagne, quasi tutti vanno verso le lasagne, perché c'è più grasso, c'è più roba. Allora, l'audiovisivo ti dà più roba, che poi questo sia un vero vantaggio, ovviamente è discutibile, perché ogni cosa che ti dà, ti impedisce di inventarla tu. E allora, è chiaro che leggendo il romanzo, tu inventi di più, e quindi il tipo di esperienza che fai è in prima battuta, diciamo, quel che ti arriva è più povero, ma quello che poi alla fine ti rimane magari è più ricco, oppure comunque è più sintonico con il tuo modo di essere, quindi può radicarsi più profondamente in te. E ci sono un sacco di cose che si potrebbero dire, ma sta di fatto che, siccome pochi sono degli atleti del loro intelletto, e quasi tutti sono dei, così, dei dilettanti, siamo tutti dei dilettanti quasi in tutto, salvo che in pochissime cose, una cosa, uno strumento che ti manda tante informazioni nell'unità di tempo, è destinato a vincere, perché tutti quanti si accodano a questa fantastica possibilità di fruire. E del resto abbiamo anche modo di dimostrare in maniera matematica qual è la differenza. In pochi fotogrammi di un film ci sono, c'è più informazione codificata nella memoria magnetica del supporto che lo ospita, che in decine e centinaia di romanzi, cioè l'ingombro è enormemente maggiore. Io posso mettere tutta la letteratura italiana in uno spazio che è infimo per metterci un lungometraggio qualunque, anche schifoso, cioè la quantità di informazione necessaria per un film è moltissima. Quindi come è successo? Questa ricchezza semiotica si è imposta, la cosa che ti dà di più con meno fatica ha vinto sulla cosa che ti dà di meno, o comunque apparentemente, immediatamente di meno con più fatica. Però cosa che ancora mancava all'audiovisivo? Mancava quella funzione di accompagnamento. Cioè tu il romanzo lo inizi oggi e per diverse settimane, a meno che tu sia di quelli che vogliono fare il record e poi mettono su Facebook, quest'anno ho letto 365 romanzi. Però invece queste sono cose, diciamo, patetiche secondo me. In realtà l'importante del romanzo è il livello a cui ne fruisci. Ecco, il romanzo è una cosa che ti accompagna. Tu sai che la sera, che avrai tempo per leggere, ritorni in quel mondo. Quindi il romanzo è narrazione, non solo perché con Mimesi della realtà rende dinamico nel tempo, rende qualcosa dinamico nel tempo, come noi abbiamo esperienza che tutto ciò che è reale è dinamico nel tempo, salvo i diamanti. Ecco, allora, il romanzo riusciva ad accompagnarti a far sì che tu questo vivere un'altra vita lo vivessi su scala di vita, cioè nello svolgersi diacronico, nello svolgersi nel tempo della tua stessa vita. Quindi aveva la funzione sia di farti vivere qualcos'altro, di acuire la tua fantasia, di approfondire la tua comprensione delle cose umane, perché naturalmente la letteratura cesella nervature significative, non racconta in modo piatto ma fa venire a galla l'importante. Però tutto questo lo faceva in questa accompagnarti. E invece il film, no, il film durava un'ora e mezza. Se era di Kubrick durava tre ore e mezza. Però comunque era un episodio, era un momento e non era una fase della tua vita, la fase in cui leggevi Guerra e Pace. E io continuavo a dire, ma cosa succederà? E poi è successo. E cioè adesso abbiamo l'audiovisivo che ti accompagna, abbiamo le serie che caratterizzano un periodo della tua vita, che lo colorano, che lo fecondano anche intellettualmente, perché queste cose spesso sono a dei livelli assolutamente non inferiori a un buon romanzo. Ci ha lavorato più gente, alcuni di quali sono dei veri geni, e altri sono degli eccellenti esecutori sotto la guida di questi veri geni. Quindi noi abbiamo semplicemente, che adesso abbiamo anche la narrazione che ti accompagna, che ti fa vivere altre vite, in formato audiovisivo. E quindi direi il romanzo è battuto in maniera senza più, diciamo, speranza. Non so, perché io, nella mia esperienza personale, ho l'impressione che questo famoso esercizio di soggettività che tu fai leggendo, non sia lo stesso che tu fai guardando una serie. Quindi c'è il discorso dell'accompagnamento, ma il fatto di essere protagonisti e di farsi protagonisti, perlomeno a livello mio, proprio personale, rispetto a una cosa che vedo al cinema, non al cinema. No, ma scusa, mi sono fatto capire male. Il romanzo è battuto sul piano quantitativo, cioè siccome questa esperienza di cui stiamo parlando è qualcosa che interessa, addirittura che è accessibile, nel senso che se ne rendono effettivamente conto, solo una minoranza di persone, ma non voglio essere valutativo, sarebbe come dire solo una minoranza di persone va a pesca di trota con la mosca secca. Non è che sono i migliori, ma una minoranza. Allora, questa esperienza, questa differenza la percepiscono in pochi, ma il grosso no, e quindi a questo punto il grosso si orienta decisamente sulle serie. Per fortuna siamo tanti, siamo vari, e quindi anche i romanzi vengono ancora letti, ma non possono competere, il business complessivo non è paragonabile.